oggi vi presentiamo questa dolcissima piccola cagnolina lei è pulce e pulce pensate è una randagia del territorio di ginosa marina che ha avuto un'opportunità e noi vogliamo che questa opportunità non venga sprecata mi spiego meglio vi racconto la sua storia pulce viveva randagia vicino un canale e purtroppo era rimasta incinta così le volontarie che l'accudivano hanno fatto in modo che venisse messa in lista d'attesa per la sterilizzazione purtroppo le liste d'attesa sono lunghe e quando è arrivato il suo momento e sono arrivati gli agenti tecnici lei era incinta ma parecchio incinta solo che non sembrava più di tanto così loro l'hanno portata ugualmente nel canile sanitario per farla operare però cos'è successo a un certo punto che dopo averla lasciata nel canile sanitario durante la notte pulce ha dato alla luce i suoi cuccioli quanti erano a maria vittoria cinque cuccioli adesso quattro poi vi racconteremo anche allora che è successo che il mattino dopo gli operatori del canile hanno trovato questa piccolina con tutti i cuccioli che allattavano neonati e ci hanno detto dovete portarla via perché qui il comune di ginosa ha diritto soltanto di sterilizzare di usare la sale operatoria ma per l'adeggenza ci deve pensare il comune stesso o i volontari che portano i cani da operare guardate ce ne sono cinque non è la mamma adesso verrà diventata è messa nella gabbia qui e non c'è questo non c'è questo così noi abbiamo preso pulce e dovevamo in quel momento decidere che fare di lei dove la potevamo lasciare in mezzo alla strada nel canale con i suoi neonati assolutamente no e allora abbiamo trovato una pensione ora pulce in questa pensione ci sta da un mese e mezzo giusto un mese e mezzo circa ma guardate carina questa cagnolina che che simpatica intelligente valguinzaglio voi dovevate vederlo un mese e mezzo fa un altro cane fobico assolutamente si rifiutava di farsi avvicinare da chiunque tranne dalla volontaria che le ha sempre dato da mangiare voleva continuamente scappare non si sentiva per niente al sicuro nonostante per lei è stato predisposto un luogo molto accogliente dove era tranquilla non sentiva l'abbaiare degli altri cani poteva semplicemente dedicarsi ai suoi cuccioli ma lei voleva scappare stava malissimo noi in quei giorni pensavamo va bene un po di pazienza poi quando i cuccioli saranno in grado di mangiare da soli glieli togliamo a lei rientra il latte la facciamo operare la rilasciamo per strada questa era l'idea iniziale solo che a un certo punto pulce ha deciso di cambiare e di diventare una cagnolina socievole proprio all'opposto di come era all'inizio e a quel punto noi abbiamo detto ma che facciamo la ributtiamo in mezzo alla strada bisogna dargli una possibilità assolutamente cioè ormai non lo concepiamo più questo discorso le cose sono proprio cambiate non ce le aspettavamo la remissione sul territorio è prevista dalla legge pugliese i cani randaggi che non creano problemi possono dopo la sterilizzazione e la microcippatura essere rilasciati però poi come vivono allora lei finché era diffidente selvatica se ne stava lontano dai pericoli costituiti magari da chi poteva avvelenarla nel momento in cui andava a dare fastidio diciamo nei paraggi delle abitazioni ma ora lei è diventata socievole ora le cercherà sicuramente di avvicinarsi alle persone e ci saranno i soliti intolleranti che le faranno del male questo è uno dei pericoli poi c'è il pericolo della strada lei magari adesso non ha più paura viene allo scoperto e viene investita troppe troppe cose quindi adesso dobbiamo assolutamente tutelarla e poi soprattutto trovarle una famiglia allora secondo voi questa dolcezza di cagnolina piccola che peserà dieci chili no cosa facciamo deve vivere randagia o gliela diamo una possibilità chiaramente voi adesso vedete grandi progressi dovevate vederla prima non forse non riuscite a immaginare però comunque rimarrà sempre un pochettino diffidente cioè non è il cane che voi portate per dire al centro commerciale non è il cane che quando avete ospiti a casa va a fare le feste a tutti almeno non subito quindi per lei ci vuole una famiglia di persone che non si aspettano nulla che hanno un solo scopo renderla felice aiutarla darle una vita degna di essere vissuta persone che amano veramente gli animali e sicuramente quelle persone ci sono perché non sono tutti con la pretesa di avere il cane addestrato il cane che si comporta bene in ogni circostanza no non sono tutte così le persone per fortuna anzi chi ha adottato i cani così sicuramente può raccontare di aver ottenuto nel tempo grosse soddisfazioni è una grande soddisfazione secondo me perché davvero si vede il cambiamento ma già noi crediamo io sinceramente da quello che ho visto all'inizio nei video ad oggi anzi noi abbiamo mettiamo qualche spezzone anche di video per far vedere come si comportava prima lo mettiamo perché devono capire le persone che non stiamo esagerando era davvero difficile lei ecco a noi sembra veramente di assistere in questo momento a un miracolo sembra una cagnolina normalissima normalissima eppure lei non ha socializzato nel periodo sensibile purtroppo perché la sua mamma sicuramente le ha insegnato a diffidare dell'essere umano e lei poi degli esseri umani in quella fascia di età è stata lontana quindi ma a voi sembra possibile no no meno male veramente che abbiamo deciso così di non abbandonarla comunque c'è anche un'altra cosa e qui ci rivolgiamo alle persone che hanno voglia di aiutarci e sostenerci noi vorremmo continuare a tenerla a pensione fino a quando non trova casa allora se decidete di aiutarci potete magari contribuire così noi continuiamo a tenerla e secondo me non sarà per tanto tempo perché così belle e dolce piccola taglia ci chiamerete e allora non dovrà stare tantissimo io penso che un altro mese o due insomma le serve per per trovare casa così se decidete di darci una mano noi apprezziamo moltissimo accettiamo molto volentieri perché siamo un'associazione di volontariato e viviamo di donazioni nessuno ci supporta economicamente nessun ente quindi se voi fate una donazione a noi a parte che siamo una onlus e quindi rilasciamo ricevuta scaricabile su 730 e poi paghiamo sempre con il discorso della tracciabilità possiamo dimostrare dimostrarvi in qualunque momento che il vostro aiuto è diciamo stato speso proprio per quello che stiamo chiedendo adesso e niente speriamo almeno di avere questo tipo di aiuto in primis la richiesta di adozione ma nel frattempo aiuto a continuare a tenerla qui perché qui sta bene si sente a suo agio ha tanto spazio esce regolarmente a guinzaglio voglio dire all'opportunità non solo quindi di essere curata acudita ma anche di essere educata quindi cosa volete di più cioè vi arriva un cane che sa andare a guinzaglio più di così piccola pulce vieni qui vieni pulce vieni che c'è vieni lo vuoi il biscottino vediamo se ne ho uno vedete lei comunque eccola qui per il biscottino viene brava è troppo carina comunque ha un anno scarso giusto prima cucciolata prima cucciolata beh che dobbiamo dire più possiamo solo sperare che qualcuno ci chiami speriamo bene ciao piccolina ora devo andare troppo carina ciao pulce ciao 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 e non potevamo non farvi vedere i cuccioli di pulce i 4 sopravvissuti guardate che meravigli E vediamo, mamma mia, vediamo questo piccolo, bianco e nero, dove se ne va? Quanto hanno? 45 giocati? La femminuccia, ma questi sono comunque di taglia medio-grande, non sono come la mamma. Guardate questo marroncino, questo che cos'è? Che cos'è? Maschietto, mamma mia, quanto è bello questo maschietto. E questo uguale alla mamma, che però sembra più polpettone. Questo, che cos'è questo? Maschietto? Ah, qui di un? Uh, tre maschi, ecco questo pezzato. Panzerotto, dove vai, Panzerotto? Dove vai? Dove vai? Dove? Madonna quanto sono belli, pure questi cercano famiglia. È troppo brava Pulce, ha fatto questi bei cuccioli, che peccato che è morto uno di loro, che peccato. Madonna mia, ma guardate questa cagnolina, piccola. Ecco qui, ecco, ha sempre un po' paura, piano piano. Brava Pulce, proprio una brava mamma. Madonna, questa femminuccia, questa femminuccia, questo maschietto, questo maschietto, femminuccia e maschietto. Madonna, dei polpettoni, dei polpettoni, dei polpettoni. Madonna, quanto è bello questo polpetto. E' un po' magro. Quanta ciccia che c'è. Quanta ciccia che c'è. Quanta ciccia che c'è. Quanta ciccia che c'è. Quanta ciccia che c'è.